bene questa è la sessione per francesca ciao elena ciao come sempre conto da 5 a 1 e dopo l'uno mi direi quando sei pronta 5 4 3 2 1 ok dimmi come vedi francesca allora mi appare come se ci fossero due francesca come se una ha una vita molto fluida e molto soddisfacente volessi sente sicura si sente forte e una dove invece si sente invasa dalle persone esterne da cui come se non riuscisse a l'immagine come se con le persone esterne con alcune persone alcune persone esterne lei si sentisse più piccola come se diventasse sempre più piccola a seconda di quello che le altre persone fanno o dicono con lei ok quindi come se perdesse la capacità di controbattere tra virgolette con le altre persone interagire a un livello che per lei è benessere ecco sono due linee temporali diverse se secondo me si ed è una stessa persona se non è un clone no quindi a volte lei vive lei sente qua quella francesca la nell'altra linea temporale qual è questa linea temporale attuale nostra della prima francesca è quella del suo lavoro quella che coincide col suono e con il suo lavoro con la con la sua famiglia d'origine serena è come se tutte le volte come se quell'altra linea la descrivo così è come se l'altra linea temporale che è parallela che molto simile è come se fosse potrei dire la non so come descrivertela mi vengono delle parole ma non sono quelle giuste come se fosse la parte negativa di questa ma in realtà non è neanche così è come se le ecco come se la sua ps volesse fare non perdere tempo e quindi fare la stessa esperienza in maniera positiva in maniera negativa ti dà l'autorizzazione l'unica ps sì ok quindi c'è francesca 1 e francesca 2 la il numero della linea temporale di francesca 1 qual è 83 sono 83 linee temporale hanno uno scusa io gli ho dato un numero era come se invece che il nome ci fosse un numero quante linee temporali a 4 la una la francesca 1 e nella 1 si è la 1 la francesca 2 nella 3 ok ti dà l'autorizzazione ok come la vedi come adesso sì sì ok vediamo la causa esoterica del suo grosso legame con la cina è ritrovato quello che faceva già in una vita passata era però un uomo lo avete in un villaggio dove in un villaggio in mezzo alla campagna in cina dove praticava la medicina tradizionale cinese dove la insegnava anche già la ed era uno diventato uno dei dei più esperti e famosi della cina se non conosco i nomi ma io direi che è uno dei è stato uno dei precursori della tradizione cinese uno dei che è diventato famoso poi vedo che da lì poi hanno sviluppato proprio tutto una come si dice una forma un ramo di medicina tradizionale cinese poi da lì è stato diffuso questa questo metodo in tutto il mondo in seguito dopo la sua morte lui la donna uomo uomo e qual è la causa esoterica del fatto che lei ripete questa esperienza diciamo che è la sua capacità media medianica tra virgolette nel senso si direi medianica perché attraverso la medicina tradizionale cinese lei utilizza anche l'energia anche se forse è poco cosciente di questa cosa quando lei fa quella cosa è completamente centrata e come si lavora come se lavorasse solo la sua ps con le vibrazioni con le vibrazioni però perché non fare un'altra esperienza dove provare un altro tipo di centratura perché ripetere questa perché è quella parte ci sono queste due linee temporali e un su una linea la ps voleva fare un'esperienza semplice quindi come se fosse da supporto all'altra senza ostacoli questa parte c'è una roba che va via liscia senza questa invece l'altra linea temporale a quella complicata dove può fare una dove può imparare altre cose ma supportata da questa ok quella complicata e l'altra una sesta cosa fa nell'altra francesca 2 è un'operaia in un ambiente di lavoro pessimo ma è umana e come francesca ha due occhi due orecchie è la stessa terra o una terra 2 per intenderci chi è diversa potrebbe essere se non è fatto uguale e quali sono le caratteristiche differenti ci sono ci sono più i palazzi fatti più di metallo che di mattoni le strade per le macchine sono tutte su dei ponti rialzati tu ci sei in quella vita quella linea temporale no io no il figlio adottivo di francesca se se si padre di una frase quindi è una linea temporale di francesca se un qualcun altro se ma la popolazione inferiore a quella che è in questa linea temporale ha avvenuto molto di 300 miliardi sulla terra se vanno terra diversi grossa si è diversa è tipo una roba fatta così c'è sempre tondeggiante ma tipo più un disco ciccione non so come dire spesso no cosa bella sì però piena anche in mezzo più grande più più sul marrone come colore in generale no meno blu e verde c'è vista dall'alto e più marrone non c'è acqua c'è acqua ma è è sotterranea e viene usata estraendo la va bene chiamiamo nel cinema il figlio adottivo si presenta sì sì ci sono vite che hanno unito francesca questo ragazzo se quante 5 la più importante non ce n'è una dove erano sempre mamma e figlio ma però di sangue biologica se il figlio le mamma sì sì è come se questa questa vita qua la ps di francesca fosse stata chiamata dalla ps di suo figlio e per per salvarlo diciamo per non farlo rimanere orfano perché in quella vita lì quella vita là dove lei era la mamma biologica è stata la vita dove francesca è stata la migliore mamma è stata la migliore mamma è stata la migliore mamma tra tutte le vite ecco non so se la migliore mamma di tutte le vite di lui lui causa esoterica del comportamento di riconoscenza se vuoi o di cambiamento profondo da che è andato a vivere all'estero di questo figlio adottivo c'è c'è un un incrocio delle due francesca in questo caso è come se lui si fosse sentito allora come se la lui fosse entrato in rapporto con la francesca 2 ok e in quel momento quando lei li ha fatto notare che non che non non li ha considerati mentre stavano male è come se lui si fosse sentito di essere strappato via da quell'altra francesca interico vedo come se non ho capito difficile da spiegare allora quando lui quando lui è andato via all'estero la diciamo la sua affinità di vita va all'estero era più affine con la francesca 2 ok quindi diciamo come se si fosse rapportato da quel momento con francesca 2 ok ma ha riconosciuto la 1 da male esatto come se si fosse sentito era come una difesa esatto cosa vuoi da me perché mi devi portare via da la ecco benissimo chiediamo la ps cosa questa storia della linea temporale dello sdoppiamento lei che evidentemente sta vivendo tantissime vite contemporaneamente oltre a quella di francesca anzi vediamole vediamo un po di dati vibrazione 27 miliardi l'accentuale di consapevolezza 121 psp 43 57 vite precedenti appunto 1238 cervello 9,3 numero di vite precedenti passate in oriente 180 e con questo ragazzo 5 un anche in oriente o alcune anche in oriente con ragazzo no nessuno ok con 1238 opportunità la ps ha deciso di aggiungersene una in questa e creare un gran casino ma non è conto perché l'ha fatto era incuriosita da dalla possibilità di fare questa esperienza con linee saltando da linea temporale mischiando delle linee temporali pensando che potesse essere una un'esperienza utile tutto qui adesso cosa ne pensa adesso sta si stare sta consapevolizzando che non aveva ha considerato che potevano essere eccessive le variabili da poter controllare tra virgolette da poter gestire qual è la vita più importante questa di francesca 1 che è arrivata a una sessione di primosi per capire cosa sta succedendo o quella di francesca 2 che un'operaia in un mondo ciambella questa francesca 1 quali prospettive di apprendimento a in questo momento la francesca 2 per la ps l'unica esperienza che potrebbe essere un po utile che però può farla tranquillamente anche che ha già fatto un po e che può farlo anche queste con francesca 1 e poi in seguito è quella di essere di imparare a gestire il rapporto con gli altri esternamente diciamo che è quello è l'ostacolo più grande che a francesca 2 di là però non è necessario che ce lo può fare anche in altre vite o in questo di francesca 1 se necessario farlo va bene il francesca intervento l'entità eteriche c'è una c'è una mantide che è legata però dice direi maniera marginale non così preponderante diciamo per la vita di francesca a buddha al buddha questa mantide legata al buddha all'energia del buddha non so se francesca segue qualcosa di questo tipo ma come energia io la vedo in qualche maniera legata lì spesso anche se la mantide e le religioni orientali sono molto vicine secondo me non a caso l'unico caso di mantide personaggio film cartone animati e con fu panda ma ecco dove c'è l'edito cioè dove c'è il combattente mantide chi non ha senso perché appunto tutto può avere senso no però più sensata la tigre anche panda se vuoi ma anche la mantide poi alla fine un insettino ciò non è un animale solo lì poi l'unico caso nella filmografia in cui c'è veramente la mantide guarda caso c'è un argomento fortemente legato all'oriente anzi fu fu non kung fu va bene mantide ok poi allora c'è c'è questo falconiforme provo a spiegartelo così perché è legato anche all'altra francesca è come se questo falconiforme fosse sdoppiato e quindi interferisce anche di là nello stesso tempo e sono collegati a vedo che gli vengono fatte delle action ogni non spesso ogni tanto tipo un check up ogni due mesi due tre mesi senza le volte tipo una cosa così dove a tutte e due cioè quindi a ps con tutti e due i corpi in abduction dove interferisce entrambe sì questo momento la manti se no no non è legata solo di qua si è legata poi l'esperienza qua dell'oriente e poi ci sono due entità mentali di che livello allora una di livello 2 e l'altra di livello 4 che era 5 però fino a direi due anni fa livello 4 che era questa quali caratteristiche aveva la 5 che poi è diventata una 4 con quali caratteristiche la 4 allora quella di livello 5 quella che livello 5 la teneva legata io vedo tipo in eterico vedo la sua idea di figura maschile in generale quindi può essere padre figlio marito compagno se non so comunque tutta la parte maschile diciamo l'energia maschile nelle persone è come se lei dovesse l'entità di livello 5 faceva in modo che lei fosse sempre cercasse sempre nella sua mente di essere all'altezza di essere approvata che ne so magari il padre o chiunque con cui diciamo padre perché quello più affettivamente vicino no vedo quindi padre che magari si arrabbiava perché c'era qualcosa che non andava e si sfogava con lei allora per lei era talmente fondamentale che cercava come se fosse un pensiero ricorrente cercava in tutti i modi era diventava una fissa affinché quella cosa lì fosse sempre perfetta da lì in poi anche se non poteva mai essere perfetto perché non era un problema di lei ma era una cosa del padre che sfogava all'esterno che quindi questo circolo vizioso sempre difficile da spiegare perché in eterico è chiaro no è proprio un esempio magari più semplice ne so viene in mente magari il padre quando stava male diceva ho freddo mi hai messo pochissime coperte non è possibile e allora lei la volta dopo e ne mette uno due in più fa caldo quante coperte mi hai messo per esempio una cagata hanno stupidaggio scusate la parola però era proprio un oppure non lo so un suo allievo maschio che diceva ma non non ho capito bene non mi hai spiegato bene come si fa questa cosa e lei allora passa magari da una lezione all'altra passava tutto il tempo a cercare un modo per spiegarglielo in un'altra maniera arrivava la via spiega in un'altra maniera e da questo suo allievo diceva no non ho capito ancora non si è riuscita a spiegarmelo oppure lei credeva che lui dicesse cioè che fosse la sua responsabilità ok questo è diventato 4 quando il padre morto no è diventato 4 quando secondo me quando il figlio è andato all'estero perché non aveva più allora diciamo che la coincidenza tra lei che in un certo qual modo senza esserne consapevole aveva fatto in parte cioè quell'esperienza l'iniziavano un s c'è poteva iniziare a diminuire quindi lei poteva iniziare a staccarsi da questa esperienza ha coinciso col fatto che il figlio è voluto andare all'estero ok quindi padre è morto anni fa figlio si è allontanato e come se le avesse c'è la sua ps avesse avesse fatto in modo che gli eventi c'è la diciamo la sua ps in accordo con la ps del figlio e prima del padre ho fatto in modo che gli eventi coincidessero col fatto che lei questa esperienza l'aveva rielaborata in gran parte no quindi l'entità mentale di livello 5 è diventata di livello 4 adesso quella di 4 la differenza che adesso è più in generale e meno intensa la cosa quindi riguarda anche le persone di sesso femminile ma in maniera meno intensa quindi diciamo è un suo lavoro costante di migliorare la sua comunicazione nel suo confronto con le persone e la 2 la 2 e più invece come sua le fa credere di non essere adeguata nei ruoli prestabiliti dalla società tipo quindi come mamma figlia moglie tutti i ruoli no quindi la società dice per nel tuo ruolo di insegnante gli insegnanti sono fatti così 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 allora lei magari c'è questo nell'entità di livello 2 le dice ma sei sicuro che tu eri sei in quel parametro di lima sei sicura che se in questo parametro non sei sicura che sei così ma se no quindi è sempre il dubbio di non essere adeguata perfettamente in quel ruolo ok il padre prima di mancare e il figlio adottivo però hanno cambiato nello stesso modo in analogo modo personalità dice francesca c'è un filo conduttore o sono due ragioni diverse accomunate così da similitudine e quindi da tendenza a semplificare tipica dell'essere umano allora quella del figlio è legata all'altra francesca abbiamo visto prima invece il padre io lo vedo più legato a una cosa sua l'ho visto già prima mentre raccontava con la sua malattia man mano che diventava sempre più debole le sue vibrazioni erano sempre più basse è un certo punto visto proprio che è stato interferito da una nuova interferenza mentre era malato che lo faceva proprio atteggiarsi così in maniera aggressiva come non ha mai fatto ho visto proprio che era un interferenza si è entrata proprio un interferenza da quel momento in poi e quindi era un nuovo comportamento che non ha mai avuto perché non era mai stato interferito così chiamiamolo è arrivato ci si presenta si presenta al padre con l'interferenza la stessa interferenza attaccata qua e vedo questo grosso falco con le ali semi aperte la stessa di francesca col falco lì no è la stessa che aveva quando è morto quella che l'ha interferito quando è diventato aggressivo io apriamo la piccola c'è ancora falco l'ha preso era mandato via apriamo il portale aureo e chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di francesca quelli che si presentano si presentano lo fanno perché vogliono andare il padre è invitato ovviamente a farlo andare se vuole ma anche a lasciare un messaggio prima di andare dice una cosa un po particolare rispetto al suo ti dice avrei voluto terminare la mia vita vissuta con te in maniera diversa più morbida più accogliente più sì più accogliente più affettuosa ecco ma da un lato sono contento di aver fatto questa questa esperienza alla fine della mia vita così è fatta e non la vorrò rifare più ecco come lo vedi che aspettua prima con l'interferenza lo vedevo più magro più sofferente adesso lo vedo un po più in carne non esageratamente ma prima era proprio scheletrico adesso una cosa giusta più dritto e più più rilassato in faccia più sorridente ok tutto qui se ne da un abbraccio allora lo salutiamo e lo facciamo andare insieme a dimmi quanti dei parenti di francesca 73 ok chiamiamo anche i morti da cinivac dall'ultima volta oggi 16.543 questi prima di andare hanno il compito di mandare l'informazione della loro morte dovuta al cinivac a tutti quelli che sono ancora qui in questo bel gioco divertente ma cacci baccati e non cini baccati ok nel cinema c'è solo il figlio adottivo allora ci sono un po di suoi allievi sono figlio adottivo nel prima fila in seconda è molto entusiasta ma è come se fosse un po se non volesse invadere lo spazio della mamma quasi come se aspettasse il permesso per andare in prima fila e invece i suoi allievi sono più o meno a metà quindi dalla dall'ottava alla tredicesima fila e in fondo vedo e penso sia la sorella hai una sorella francesca si poi non so se se sono vedo anche una signora un po anziana ma non so se siamo una zia sempre in ultima fila di fianco alla sorella e poi penso un cugino e una cugina sulla destra io non te l'ho chiesto francesca ma c'è un marito ha il marito e marito c'è e insieme agli allievi il figlio adottivo cosa fa dove seduto sento una seconda fila allora seduto su una sede la seconda fila appoggiato sullo schienale del davanti mi chiede se può sedersi davanti non c'è bisogno di chiederlo fuori da sicuramente va bene vediamo velocemente l'immobile contesa tra lei e la sorella c'è una contesa tra lei la sorella ci sono delle cause esoteriche ci sono delle interferenze che impediscono la gestione vendita vendita no dell'immobile un'entità mentale della sorella che ogni tanto interferisce su questa cosa è come se le dicesse ma non è la cosa giusta vendere no no lì c'è un qualcosa che che va male se vendete no tutta una cosa così ok è nel cinema la sorella sì però in fondo ok in fondo però nello schermo tutti hanno visto questo fatto quindi anche lei c'è dita mentale di numero di livello 3 ok ed infine il qi kong o qi kong qi kong che cos'è che dove nasce allora questo tutto questo ragazzo che era molto selvatico nel senso gli piaceva stare molto isolato dagli altri e mezzo alla natura e vedo che a un certo punto inizia a provare a fare gli stessi movimenti che fanno gli animali vedo che cerca di imitare il movimento la prima immagine che fa vedere è che cerca di imitare il movimento di un cervo che cerca nella cannusa tipo il terreno per cercare delle tracce quindi lui cerca di imitare il movimento delle zampe posteriori col suo corpo in quel momento sente l'energia dell'animale e si accorge di sentire l'energia del movimento della natura poi da lì pian piano sia un po diffusa questa cosa tra le persone intorno a lui e nel villaggio e poi anche nelle generazioni successive fino a un certo punto dove questa cosa è stata strumentalizzata e quindi è iniziato sono iniziate le interferenze quindi si avvicina molto al secolo e tanto troviamo delle persone che hanno questa capacità medianica di comunicare con la natura ok o con gli animali è molto simile la vibrazione all'inizio però vedo che poi a un certo punto apre dei canali ha aperto dei canali dove sono entrate le interferenze quindi è stato strumentalizzate lì che vedo un po interferenza della mantide attaccata collegata al buddha allora potenzialmente l'energia del ciclo se fatta per sé come come meditazione è molto buona con la concentratura che c'era ai tempi no quindi se lei mentre facci sente il collegamento con gli animali e la natura allora è buono se invece è come solo se fa uno schema di movimenti fatica a spiegarlo se lei non riesce a sentire il collegamento perché dice l'interferenza della mantide che le blocca questa cosa invece che il canale energetico vibrazionale invece che essere tra lei e la natura lei la mantide lei la mantide esatto la mantide si prende quella parte di energia e di vibrazione siamo come schermarsi quindi da questa parte io vedo che lei quando quando insegna la medicina tradizionale cinese sente quella vibrazione che la sua centratura la sua ps che sa usare questa capacità quello che dicevo prima no lei pensa se lei si concentra sente che passa la vibrazione e diciamo come strumento per passare la vibrazione lei usa i concetti della medicina tradizionale cinese ok se lei quando facci con sente la stessa vibrazione allora è scollegata dalla mantide dall'interferenza se lei quella vibrazione lì non l'assente significa che la sua la sua energia viene risultata c'è un'entità mentale collettiva cq si ma la vedere è come se ogni divina ogni divinità religiosa quindi buddha gesù promettono avessero come aiutanti anche tutte delle entità mentali collettive no oltre alle interferenze dirette che può essere appunto alla mantide anche delle entità mentali collettive come appunto c con un tipo di yoga quello meditativo a reiki no tutte le varie ecco il ciccone si un'entità mentali collettiva c'è tramite quei concetti poi passa l'interferenza ok nel caso di dipende nel caso di francesca è collegata poi alla mantide a volte può essere collegata delle entità mentali perché eravamo tutti insieme tu io e francesca un'enorme ad eterno che comprende tutta l'entità mentale collettiva c con ci mettiamo a triangolo uno di qua uno dirà uno di là e facciamo questo ad eterno dimmi quando l'abbiamo fatto e quanto fa quanta fatica ci costa diciamo nulla ok fatto se qualcuno del mondo oggi da questo momento in poi si dedica a questa pratica ci sono delle differenze o valgono solo per francesca no palette ball varranno per tutti coloro che riescono in questo istante a cogliere l'opportunità del consapevolezza di questa cosa quindi tutte le ps che si accorgono in questo momento del lavoro che abbiamo fatto riescono a staccarsi dall'entità mentali c con e quindi poi tengono solo la parte energetica collegata direttamente alla natura ottimo benissimo il nostro bel lavorino l'abbiamo fatto anche oggi cosa vuole fare francesca dare al chaste in che modo ci vuole andare svogliata perché lo devo fare e questo è il momento o ne ha veramente consapevolezza e desiderio no no ci vuole andare no gli è molto chiaro molto chiaro che ok adesso dopo che ha visto che ha consapevolizzato il passaggio quello lei lo vuole fare assolutamente andiamoci per ogni vita c'è uno la hop e ogni diciamo cerchio ha un colore diverso sono i vari contratti cioè quello in cui lei decide di avere due linee temporali e due francesi si è in questa vita qua che aspetto a questo contratto nel cerchio è fatto da una spirale di due colori lo tiene no no allora via tutto o tutti o nessuno ok chiuso portare definitivo e allora da già che sa creare o via d'eterno ne crei uno qui fatto messo fatto questo andiamo all'avatar come lo vedi intento cercare di cambiare le cose sul computer togliamo l'eliminiamo lo detronizziamo cambiamo questa condizione che dura da 1238 vite il controllore delle sue vite ora è lei e non più godino con le mani dell'avatar lo mettiamo in un portale di figlio lo mette in un portale definitivo ad eterno ma anche qua ok ok no benissimo con questa nuova condizione cosa è rimasto niente assolutamente niente allora chiediamo a francesca di crearsi sette ad eternum uno nel posto di lavoro uno in casa da un ottavo nella casa che deve vinto un immobile che deve vendere e altri cinque più importanti i suoi cinque corpi fisico mentale emozionale eterico subliminale ma messi come la vedi la vedo è bella questa immagine perché vedo lei molto lucente solare sorridente con come se avesse l'energia aperta te lo dico così non so come come spiegarlo come se avesse le sue vibrazioni verso l'esterno no vibrazioni alte verso l'esterno quindi forte e sicura e poi vedo che ha tutte delle come se fossero tanti ad eternum colorati a seconda della vibrazione che i suoi allievi o le persone che a cui lei fa la sua medicina tradizionale cinese cioè il colore corrisponde alla vibrazione della persona in maniera tale che può essere equilibrato equilibrata ok quindi con le sue quella sua quello che dicevo prima no le tramite diciamo la le nozioni della medicina tradizionale cinese le tecniche lei comunque fa un lavoro di vibrazioni è in grado di sentire la vibrazione dell'altro e gliela riequilibrio anche con i colori vedo che ha proprio degli ad eternum colorati penso qual è la sua nuova vibrazione 395 miliardi nuova consapevolezza 187 psp 65 35 vite precedenti 908 cervello 10.1 messaggio finale della ps di francesca francesca in relazione a tutto al lavoro altri adottivo se vuole e alla capacità di cioè alle tecniche per alzare questa percentuale di cervello utilizzato utilizzato allora quello che la ps le vuole dire prova a usare questi ad eternum colorati anche quando fai c con così almeno riesci man mano ti alleni a rimanere centrata e a essere collegata direttamente con la natura senza interferenze per alzare le capacità del il percentuale di cervello se ha un suggerimento la ps non è che sì no non mi viene sto guardando sto aspettando a vedere se posso facendo quello che fa sì infatti probabilmente sì perché poi diventa un'altra capacità quella del ciclo utilizzato come era nato all'inizio quindi sono già due probabilmente lì utilizza già anche un'altra parte del cervello sicuramente lo che vuole dirle rispetto al figlio adottivo è accoglilo non lascia che fluisca lui con lo suo atteggiamento e vedrà che pian piano si neutralizza come se se tu non rispondi alla sua provocazione ma lo lasci fare lui è come se sfogasse poi non avesse più di qua diciamo un appiglio per fare questa cosa ok a parte che già di là automaticamente si è sganciato da francesca 2 perché non c'è più quindi già lui se lo fa ancora lo fa per per un ricordo e un'abitudine che se di qui non al gancio non lo farà più di accoglierlo in maniera neutra e vedrai che col tempo cambia perfetto ecco la vedi la vedo lucente leggera e fatti riesce ad alzarsi da terra il cinema nel cinema che succede allora il figlio molto entusiasta si sente alleggerito anche lui è come se il dover avere a che fare con due francesca diverse l'appesantiva si è reso conto no quindi alleggerito entusiasta molto entusiasta i suoi allievi sono tutti molto entusiasti anche il marito non so se il marito che il marito lo vedo tra gli allievi non so se anche lui si sta approcciando non lo so più o meno è come se francesca avesse questa intenzione di coinvolgerlo a ciò che fa ecco perché non gli piacerebbe in eterico è pronto perché si è seduto insieme agli allievi quindi in eterico non corrisponde al fisico bene esatto niente la mamma e la sorella hanno preso la pic le istruzioni per la d'eterno sono un po così se solo hanno evitato così pronta a tornare se disconnettiti allora